Sarà il caso che ti trovi un lavoro? Ci sembra più bisogno di ragazzi come te, di gente come noi. Io sono il tuo papo! E io sono il tuo figliolo purtroppo! Forse ti serve il mio indirizzo. Bella stronzata. Teo è passato perché voleva parlarvi di un... Sì, hai bisogno di soldi? No. Un lavoretto di scegliere, eh? Non lo ci sarebbe. È l'ora di rientrare. Cosa? È tardi. Ah, te ne vai? Buonanotte. Ma non eri te lo scrittore? Vaffanculo Martini! Ma non aveva detto che reagiva bene alle cure. Capo! A me piace lei E lei piace a me E vorrei che mi vedesse Che la pensasse esattamente come me Se le piace cucinare Mi farò cucina Sarò il sole se le piace la mattina A me piace lei E lei è guà A me piace lei & amica